Un dialogo schietto non lascia spazio ai frantendimenti e permette di procedere in un clima costruttivo. Lo ha rimarcato ancora una volta Papa Francesco, aprendo i lavori della settantesima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Nell'aula del Sinodo, dove si dibatterà di giovani, di lavoro e di evangelizzazione, oltre a individuare una terna dei candidati alla successione del presidente uscente, il cardinale Angelo Bagnasco, il pontefice ha voluto ringraziare il porporato per i dieci anni trascorsi nella presidenza e per la pazienza avuta con il successore di Pietro. Non è facile, ha detto scherzando, lavorare con questo Papa. L'incontro è proseguito poi privatamente e il pontefice ha dato per consegnato il discorso, una meditazione nella quale ha ricordato i fondamenti del cammino della Chiesa, dove la fede non può convivere con le logiche del potere e del successo. La mia idea è fare un dialogo, un dialogo sincero come abbiamo fatto l'altra volta, che è uscito tanto bene e a me ha fatto bene e si domandano le cose chiaramente, senza paura. Perché quando non c'è il dialogo, quando quello che presiede non permette il dialogo, semina il chiacchieriggio. È peggio, questo è peggio.